book trailer accessibile video progettato per la fruizione da parte di non vedenti e non udenti rimasi molto colpito dallo spettacolo delle cose che passano compresi all'improvviso che nello spirito del gioco delle perle tutto ha effettivamente un significato universale che ogni simbolo e ogni combinazione di simboli non portano qua o là a singoli esempi bensì verso il centro nel segreto nel cuore del mondo nel sapere originario la mia vita così all'incirca mi proposi doveva essere un trascendere un progredire di gradino in gradino un attraversare e lasciarmi alle spalle spazio dopo spazio come una musica suona un tema dopo l'altro un tempo dopo l'altro e se li lascia dietro senza mai stancarsi o dormire sempre destra sempre presente con tutte le sue parti il gioco delle perle di vetro di hermanesse mondadori milano 1984 musica canzioni danza numero 6 federico monpu 1950 voce nicolò ramella motion graphics francesca manani ivana riva eleonora zanibelli professori dina ricco gianluca balzerano cultori alberto barone giulia martimucci alessandro zamperini scuola del design politecnico di milano anno accademico 2018 2019